tp24.it notizie, il territorio in diretta. Stefano Pellegrino, come intende convincere il partito degli astenuti? Il partito degli astenuti intendo convincerlo nel senso che sono assolutamente convinto che la gestione dei bisogni da parte del Movimento 5 Stelle o da parte dei qualunquisti porterà ad una utopistica rivoluzione. Quindi gli astenuti debbono capire che non andando al voto non daranno delle preferenze e indirizzeranno il sistema politico, il sistema elettorale verso quella via verso cui è andato comunque. Quindi è necessario che i nostri elettori abbiano consapevolezza del fatto che astenendosi tutto rimarrà per com'era, votando almeno qualche cosa potrà cambiare e quindi votare persone che siano leali, che siano state corrette nella vita, che siano state professionali nella vita, che siano stati competenti nella vita, persone che abbiano lavorato nella vita. Perché votare Stefano Pellegrino e non un altro dei deputati già uscenti? Perché in sei mesi penso che il pubblico e chi dovrebbe andare a votare ha potuto apprezzare le mie qualità. Sono stato parlamentare per sei mesi e hanno potuto avere modo di poter verificare quali sono le mie qualità. Per gli altri sono stati sempre contestati. E quindi in una situazione del genere non mi pare che sia quasi fisiologico il voto verso chi è stato apprezzato seppur in sei mesi rispetto a chi è stato contestato in un vendegno. Stefano Pellegrino, che responsabilità sente di dover rappresentare? Io sento di rappresentare le responsabilità che ho manifestato e che ho avuto oggi. Io sto tornando dal tribunale, ho una grande responsabilità professionale, avrò anche una grande responsabilità politica, una grande responsabilità etica, una grande responsabilità deontologica, ho la mia storia, parla la mia storia, i voti li ho già, basta che faccia conoscere a chi mi conosce e basta far conoscere a chi mi conosce che sono candidato. Io sono il vostro Stefano Pellegrino, votate.